Buongiorno ragazzi, oggi è un video divertente, nel senso divertente, e siccome comunque devo stare qua a lavoro, non posso muovermi tanto, devo un po' inventarmi qualcosa E oggi, siccome ho il drone, e questo qua non me l'ho ancora fatto vedere bene, DJI Mini 2, molto veloce, molto agile da usare L'unica pecca è che non ha il volume, ecco questo un po' mi dispiace, anche se si sentirebbe solo l'elica forse dall'alto Quindi forse è normale che non c'è il volume Comunque adesso lo provo qua nel mio ristorante fuori in giardino e vediamo cosa si vede dall'alto dal mio ristorante L'ho fatto una settimana fa, una volata veloce, si vedono solo le baracche, però adesso le vediamo insieme L'ho caricato, ci vogliono due ore di carica, due ore per farlo volare mezz'ora Però la cosa buona è che si possono comprare delle batterie, però le batterie costicchiano sui 50 euro in una mi pare Adesso andiamo e lo proviamo insieme ragazzi Allora ciao ragazzi, primo step per usarlo bisogna collegare il cellulare al mouse qua, in questo caso al joystick Si collega in questo modo Allora ecco, prima di tutto bisogna scaricare l'app che è questo qua, DJI E voilà Chiudi Colleghiamo questo Tastino, vedete Questa è l'app Poi bisogna accendere Schiacciando due volte Ecco adesso è attivata Poi bisogna accendere anche questo Attivo Tapos Guida la connessione DJI Mini Questo è la prima volta che lo uso con questo cellulare, di solito lo uso con l'altro Però è già collegato, ecco vedi Si vede già il mio piede, vedete che è il mio piede questo Si vede Questo non si vede Così Quindi Filcherò qua E lui è già partito? Vedete che si vede là qua? Lui va su Ora lo faccio Ora cambio telecamera e si vede Solo da qua, ok? Vedete un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco ragazzi, questo è il drone, purtroppo qui non c'è uno spazio adeguato per volare perché è pieno di piante e ho un po' paura di perderlo, dovrei farlo in un parco, in un posto un po' più libero. Quindi questo è il drone ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ciao!